due cose da dire fratelli rossonieri amici rivali di youtube buongiorno buongiorno un cazzo buonasera 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 prima di iniziare prima di iniziare ragazzi prima di iniziare iscrizione su twitch domani facciamo la live proprio penso che la facciamo su youtube ma arriva a fare sicuramente il saccazzo di wifi domani inizio a smanettare vediamo se riusciamo già riesco a collegare la playstation con con la wifi vediamo un attimino che cazzo succede tanto l'antenna domani me la montano finché non vedo non credo ragazzi finché non vedo non credo c'è l'appuntamento domani è l'eulo ok perfetto ragazzi allora io penso una cosa cioè che uno può anche investire i propri soldi in un'attività sapendo già che comunque tu li andrai a riprendere comunque fra dopo un tot di tempo perché gli investitori investono dei soldi dopo un tot di tempo comunque quei soldi rimangono lì fermi fermi e dopo aver aspettato ok ci sono tutti i margini di guadagno però io non riesco a capire una cosa perché investire i propri soldi in un lavoro che non non è il tuo è la nostra sfiga e che c'è arrivata gente che non è il proprio lavoro non è il loro mestiere cioè non è il loro mestiere la cosa grave è che questi qua fanno un lavoro che non è il loro è questa la cosa grave perché tu dici perlomeno vengo provo a spendere spendo male ok ci hai provato comunque cioè le cose ti vanno male perché comunque tu pensavi una cosa che invece poi non era quella però ci ho provato a farlo ma di questi qua che arrivano oltre che sono odiosi ma proprio odiosi non sono proprio capaci cioè non ci sono dei concetti che arrivano almeno alla mia personale io oggi ho detto in live ho detto una cosa prima ho detto figa lasciamoli lasciamoli veramente i miei due moderatori top questa squadra qua con quei quattro spicci che che li concedono a quelli che la che adesso gestiscono il mercato tutto sto parlando di sena dei robi lasciateli a sena dei robi ok con quattro spicci lasciateli lasciateli in mano in milan a fare il mercato vi assicuro che fanno uno squadrone ma non sto dicendo col loro pacchetto portafoglio che loro desiderano sto dicendo con quello che li danno addirittura perché sono due signori perché li conosco personalmente addirittura lascerebbero anche sarebbero anche molto attenti a non spendere anche di più ma farebbero giusto quel minimo che basta però fatto bene per renderci competitivi senza fare grandissime cose senza fare grandissime cose attenzione non sto parlando di come galliani faceva mercato con berlusconi che andava lì li presentava il conto sugli acquisti che lo scouting vedeva vedete cacà vedete altre persone e e vabbò berlusconi preparava l'assegno e tutto no no io sto parlando che deciderebbero loro il budget loro due non mi metto dentro io mi metto dentro due persone che per me ne capiscono tanto di calcio come loro due vi assicuro che fanno uno squadrone io mi chiedo come cazzo fai dopo arriviamo comunque all'argomento del video mi chiedo come cazzo si fa è tutto un come cazzo si fa sto video qua è tutto un come cazzo si fa mi chiedo davvero fortemente come cazzo si fa che un messe che l'avrei preso va al bologna varan che l'avrei preso va al como berena non ce ne facciamo un cazzo ma più che l'ha preso il como belotti dovevano prendere l'anni fa l'abbiamo mai preso il como se l'ha preso praticamente a 4 milioni un altro che vuole prendere il bologna chi cazzo è quell'altro che adesso mi sfugge ce n'è un altro che adesso non mi viene in mente comunque sta facendo più mercato il bologna che noi cioè se voi adesso vi fate incantare dall'acquisto di morata ragazzi veramente siamo la frutta se vi fate incantare dall'acquisto di morata manco avessimo preso un vlavic da rilanciare ragazzi abbiamo preso uno che ha fatto 35 gol in 130 partite adesso sono contento sì che l'abbiamo preso ma schiaffare la maglia numero 9 io sinceramente venderei ad lì gli darei la setta morata il 9 sarebbe il mio parere sarebbe anche per ragione di logica perché che ci allena sarebbe che jonathan david ovviamente non è che ci vorrebbe tanto da arrivarci però c'è gente che non ci arriva io veramente rimango basito e allibito da non arrivarci poi oggi cosa succede che robi ormai mi state distruggendo anche l'ultimo dei più ottimisti come senad ok me li state distruggendo tutti tutti me li state distruggendo quelli che un po mi davano un pochettino di coraggio viene fuori che simic chiede troppo e vorremmo vendere a 3 milioni di euro al no cos'era non il copenaghe no che cazzo di quella lì belga non mi viene l'anderlecht non mi ricordo comunque una squadra tipo belga o che cazzo ne sono non il copenaghe una squadra belga simic io dico ma voi vi siete fucilati in testa o che cosa cioè voi le trattative proprio figli miei voi le trattative voi non le sapete fare perché io sono d'accordo sul non dare sul non dare un milione e mezzo a simici perché ci si viene incontro ci si arriva con i bonus magari con le presenze con 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 le prestazioni ci sono mille modi per arrivare alla cifra che comunque ha chiesto lui mille modi ci sono mille modi voi non sapete proprio trattare è inutile che avete messo lì il nome di ibra per sì ma perché tanto comunque ibra ragazzi per quanto per i nostri interessi ibra non serve perché non ho ancora capito per i nostri interessi ibra non serve poi un'altra cosa che mi ha fatto i nervosi oggi che luca mi scrive su instagram siamo andati lì a cosa noi non ci ha neanche cagato che aveva pagato di più faceva addirittura l'aperitivo con i giocatori così è noi che eravamo lì fermi da due ore gente con il pass che passava poi è arrivato uno da dirci di andarcene via senza neanche aver fatto salutare neanche un giocatore questo ti fa capire la serietà anche rispetto che hanno verso i tifosi poi non venite a dirlo a me state a casa ragazzi portate soltanto i bambini per farli felici a vedere il mila se siete già adulti state con le fighe va ragazzi non è un messaggio che voglio mandare sbagliato andate lì e vi mettete a urlare e protestate ma se dovete andare lì senza i figli per indottrinarli quello va bene ragazzi inutile che poi vi incazzate con me su vi sfogate con me su instagram mi fa piacere che lo fate però io non posso farci un cazzo perché io neanche andrei a perderci tempo perché rispetto per i tifosi loro ne hanno zero e parate con uno che non ci mette un euro che allo stadio non ci va ok quindi non state parando con uno che frequenta lo stadio detto questo e non vuol dire che comunque uno che non frequenta lo stadio lo stadio non può parlare perché anche io pago da zone comunque per vedere le partite quindi posso dire quel cazzo che voglio pure io detto questo detto questo ditemi un attimo che senso ha darvi a che cazzo vuol dire darvi a simici quando hai tranquillamente un margine comunque di guadagno nei prossimi 5 6 anni 3 4 anni quel cazzo che volete che margine hai ne hai tanto e allora che cosa vuol dire addirittura di farlo andare via tranquillamente a 3 milioni per guadagnarci che cosa per far vedere che magari fra 5 anni ne vale 60 70 80 per fare un'ulteriore figura di merda perché a voi mi interessa anche addirittura per l'euro speso per il giacone del magazziniere l'ho detto oggi su instagram andate a vedere le storie su instagram oggi che ho fatto cioè siete veramente in boh non lo so che cosa siete comunque di certo non è il vostro mestiere di certo non è il vostro mestiere non sarà anche il mio per l'amore di dio ma c'è di certo non è il vostro mestiere io spero che sia una notizia fake oppure si troverà un accordo per simici perché fallo andare via quelle cifre lì c'è l'inter porco diaz ha fatto andare via 20 milioni 1 che non sa neanche più sommare che gioca pallone cioè questo qua che capitano siamo arrivati in Champions League e fino alla mezz'ora non vi fate incantare l'altra zero perché è stata combattuta nella prima mezz'ora poi con lì si è inventato il secondo gol con una gran cazzo di rovesciata vabbè bravi loro per l'amore di dio il terzo gol aveva fatto non mi ricordo che ha spezzato le gambe nostri però il capitano della squadra che è arrivata in finale di Champions League e noi che cazzo facciamo cioè lo diamo via così cioè io non riesco a capirvi veramente ragazzi abbiamo fatto l'under 23 poi perché cosa dall'istica di soldi non rompere i coglioni arriva in accordo comunque cioè arriva sto cazzo di accordo ragazzi cioè boh io non ho più parole non so più cosa pensare non so più che cosa cioè lo zuccherino di Morata che cosa pensate che a gente come noi che abbiamo visto altri tipi di giocatori che ci avete ci addolcite la pillola dai fate bravi ragazzi per favore fate veramente bravi perché non ci avete proprio non cito nulla ragazzi vi mando un bacio un abbraccio ciao a tutti ci sentiamo domani temi qua sotto quello che pensate iscrizione al canale e iscrizione in abbondanza su twitch grazie